Buongiorno ragazzi, o almeno devo dire buonasera ragazzi. Quello piccolo vlog, veloce veloce. È la domenica del 9 febbraio qui e inizio la giornata andando al lavoro. E volevo salutarvi, niente. Questi suoni che sentite sono tutti pappagalli, eh. Quando si scende di casa qui sono tutti pappagalli. Ecco, avete visto Raffaele e Speranza, Raffaele e Ralfo. In tutta la sua bellezza mentre va al lavoro la mattina. Dite voi, la domenica mattina va al lavoro. Ma io mi ritengo fortunato, almeno ho possibilità di fare esperienza, come dicono in Italia. Ho possibilità di fare qualcosa. Almeno posso lampare, cioè. E vabbè. Mo' devo andare a prendere l'autobus. Che passa ogni minuto, cioè non c'è bisogno di andare là con un orario prestabilito. Passa sempre, non è questo il problema. La mattina non c'è nessuno per strada. Stai solo tu. Il sole e gli uccelli. E sono quasi le sette di mattina, eh. Cioè, io posso stare anche in mezzo alla strada, per dirvi, eh. Non passa nessuno. Sono solo gli uccelli. Stanotte sono stato svegliato da due scarafaggi che fuori alla finestra erano bloccati, perché nella mia camera c'è la rete, poi c'è la finestra che rimane sempre un po' aperta per far passare un po' d'aria. C'erano due scarafaggi che si erano messi a fare l'amore, si stavano accoppiando. E mi sono svegliato e impaurito, perché il rumore che hanno fatto è stata una cosa schifosa. Ho filmato anche il tutto. Purtroppo non sono riuscito a... A prendere proprio l'atto riproduttivo, diciamo così. Però... Si capisce che stavano facendo... Si stavano accoppiando, eh. E niente, appena posso caricherò il video nei prossimi giorni. Dura poco tanto. E niente. Scarapaggi schifosi. Si sono messi a fare l'amore fuori la mia finestra. Che schifo! Mi fanno schifo. Sono grossi quanto... Quanto una mano. E ste cose a me mi fanno schifo. Oh! Il sole c'erò proprio di fronte, in faccia. Oh, è passato un'anima. La cosa brutta è che... Ora qui inizia il nuovo giorno. Da voi è... È sera. Da voi ora, a quest'ora proprio, è l'ora di pranzo. Cioè, di cena. Eccoci qua. Siamo arrivati vicino alla stazione della... Vicino alla fermata del Pullman. Eccola qui. Qui ci sono tutti gli orari. Ta 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 ta. L'orario che c'è scritto qui è Vangelo. Non può essere cambiato. Questo è un vecchio cinema russo. È stato completamente abbandonato. Non si capisce... Perché è rimasto così. Sembrano quelle cose in Italia abbandonate. Cioè, anche qui ci sono qualcosa. Però è raro. È tutto abbandonato. Cioè, anche qui ci sono un'autobus. Grazie a tutti. Sono appena sceso dall'auto, busse anche in pieno centro ci sono i pappagalli, tanti pappagalli. Cioè la mattina è tranquillissimo. Là c'è Starbucks Coffee. Cioè la mattina è tranquillissima. 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 Ciao. Ciao. Questa di notte si illumina. Questa di notte. Ci troviamo quasi vicino a dove lavoro io. Bene ragazzi io sono arrivato al lavoro ma siccome sono arrivato un'oretta prima perché oggi è domenica e potevo rischiare di fare un pochino tardi per via degli autobus e per via degli autobus e dei mezzi. Mi soffermo qui per via degli autobus e dei mezzi. Mi soffermo qui per un po' in questa piccola baia piena di barche. Non so se si vede. In questo parco vicino a dove lavoro io. Mi soffermo qui per via degli autobus e dei mezzi. Ora sono arrivato. Aspetto un po' e poi vado al lavoro. Se ci sia arrivato un po' prima. Con questo è tutto. Spero che abbiate apprezzato il video. Mettete mi piace. Commentate. Fatemi sapere cosa ne pensate. Ci becchiamo al prossimo video. Ciao ragazzi.